In merito alla recente richiesta di 41 sindaci soci della società Cogesa, con la quale si chiede al dottor Franco Gerardini, amministratore unico del Consorzio dei Rifiuti, di mettere a disposizione la propria carica per il bene della società e per ripristinare un percorso di legittimità inattaccabile, si esprime la piena disponibilità al massimo confronto nell'ambito della compagine societaria al fine di pervenire in tempi brevi ad una soluzione condivisa. E' questo il senso del documento siglato dai sindaci di Sulmona, Prato-La Pelligna, Pettorano-Sulgizio, Pacentro, Castelvecchio-Subequo, Pesco-Costanzo, Vittorito-Opi e Canzano, all'indomani della lettera dei 41 colleghi in seno alla società partecipata del Cogesa. I sindaci che ieri hanno tenuto il briefing presso l'Aula Consigliare del Comune di Sulmona hanno voluto ribadire le motivazioni della propria scelta e quindi la decisione, la validità della decisione assunta nell'Assemblea del 30 di fronte alla situazione di grave disagio in cui si dimena da anni, bisogna dire, la società concesa a quello di dare una svolta. La svolta è consistita nella nomina del dottor Gerardini che è un esperto in materia di rifiuti, di comprovata professionalità e quindi di indubbio valore professionale. Come lei sa, altri sindaci hanno contestato questa scelta, hanno chiesto al dottor Gerardini di fare un passo indietro e noi abbiamo dimostrato per divenire ad una soluzione maggiormente condivisa, noi e il dottor Gerardini ha dato la disponibilità in questo senso, ma non dimentichiamo che il dottor Gerardini aveva dato la disponibilità ad assumere l'onere dell'incarico di amministratore unico di Coggesa per un tempo limitato, per un tempo molto limitato, quindi ci sono tutte le condizioni per poter avviare una fase di ascolto e di confronto per pervenire ad una sintesi che possa concentrarsi su un nome, su una professionalità condivisa. Allo stesso modo si ribadisce la piena disponibilità ad un leale confronto con la Municipalità Aquilana al fine di esaminare il problema del conferimento dei rifiuti provenienti dal capoluogo. A mio giudizio intanto dobbiamo chiarire la questione dei rifiuti dell'Aquilio, non mi sono mai sottratto ad ogni ipotesi di confronto con la Municipalità Aquilana e ribadisco anche in questa sede la ferma disponibilità a avviare una fase di confronto che sia produttiva e che sia nell'interesse della società e anche nell'interesse della città che io in questo momento amministro. Sul piano politico credo che debba essere avviato un confronto importante con i sindaci per pervenire ad una soluzione e per evitare che si crei una situazione di impasse in un momento così difficile della vita societaria di Coggesa e per cercare di dare stabilità e serenità a questa società.